Non era una partita facile, era una partita che comunque, contro una squadra che comunque è ben organizzata, ben allenata, una società che io stimo tantissimo, un grandissimo affetto anche di tutti i componenti della società, quindi era una partita complicata, però i ragazzi l'hanno approcciata nel miglior modo possibile, con la giusta verve, la giusta cattiveria, la giusta voglia di vincere e abbiamo portato a casa tre punti che sono fondamentali per il nostro percorso, quindi con una vittoria, tra virgolette, anche convincente dal punto di vista della prestazione, quindi è fondamentale per il nostro cammino e ci fa sperare per le prossime partite. Vito Triloso è un giocatore che secondo me con l'eccellenza, ma neanche con la Serie D non c'entra nulla, è un giocatore di una categoria veramente superiore, ma non è per dire la solida frase, è veramente un giocatore che ha dei numeri eccezionali, però permettetemi di fare i complimenti al mister innanzitutto e al collettivo della squadra, perché tutti i ragazzi, anche in difesa Cabriera è stato superlativo, a centocampro, un arrulo su tutti, onestamente è una grandissima prestazione anche di Belliccia che ha fatto, coronata anche dal gol, quindi però Filosa è un fenomeno. E poi il grandissimo lavoro di Acosta, l'avanti, c'è Acosta è un giocatore che veramente fa un lavoro sporco, che gli addetti ai lavori l'apprezzano, infatti oggi in tribuna di questo parlavamo, perché lui è uno che pulisce tante palle, prende tante botte, è uno che comunque fa salire la squadra, quindi è un giocatore veramente importante e poi Deino capita di un momento di sfortuna perché non riesce a segnare, oggi ha avuto due azioni, è stato bravissimo, anzi tre azioni importanti, di cui due nella stessa azione e non è riuscita a segnare, però è soltanto un fatto momentaneo perché credo che Acosta è molto molto vicino al primo gol col Forio.